Dall'editor Supersite 10 puoi effettuare un reset del tuo sito, ovvero riportarlo alla situazione iniziale. Per farlo accedi a Supersite, clicca sulla prima icona del menu superiore, poi su Impostazioni sito. Seleziona Resetta. Dalla schermata che si apre clicca su Resetta il mio sito e conferma l'operazione. Visualizzerai un messaggio di conferma in fondo alla schermata.